Zuppa di ceci e farro, ricetta di gennaio. Se stai cercando una ricetta sana, nutriente e gustosa per affrontare il mese di gennaio, assaggia questa zuppa di ceci e farro. Un piatto unico sano, equilibrato e completo, ricco di fibre, proteine, vitamine e minerali. Prepararla è semplice, bastano pochi ingredienti e una cottura lenta. Puoi servire la zuppa di ceci e farro al posto dei primi piatti come una minestra o una pasta. Ingredienti Ceci 200 g Farro 120 g Cipolla 1 Carote 2 Sedano 1 costa Aglio 1 spicchio Pomodori pelati 200 g Olio extravergine di oliva 2 cucchiai Sale e pepe QB Preparazione Metti i ceci in una pentola con acqua fredda e porta a ebollizione. Cuoci per 30 minuti a fuoco medio, quindi scola e lascia da parte. Prendi un'altra pentola e metti un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Fai scaldare e poi aggiungi la cipolla tritata, la carota a cubetti e il sedano tagliato a pezzetti. Lascia cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Aggiungi l'aglio tritato e i pomodori pelati, quindi fai cuocere per altri 10 minuti. Aggiungi i ceci e il farro, quindi copri con acqua e fai cuocere a fuoco medio per 20 minuti. A cottura ultimata, aggiusta di sale e pepe e servi la zuppa di ceci e farro ben calda.